Un saluto a tutti. Volevo parlarvi oggi di una figura importantissima nell'ambito delle relazioni culturali italo-catalane. Un intellettuale, uno scrittore, che ha fatto molto per far conoscere in Italia la letteratura catalana. Mi riferisco a Cesare Giardini. Pochi lo conosceranno. Eppure Cesare Giardini è stato un notevole scrittore, autore di opere di divulgazione storica e soprattutto un grandissimo traduttore. Tradusse moltissimo del catalano. Ma come cominciò la sua storia di catalanofilo, catalanista? Beh, dobbiamo andare agli esordi e gli esordi di Giardini non sono quelli di uno scrittore normale che abbia cominciato a scrivere in qualche giornale eccetera. Certo lo fece, ma lo fece più tardi, perché all'inizio Cesare Giardini è un attore. Un attore che, al seguito della compagnia che frequentava suo padre Vittorio, che era pure un attore così come erano attori anche i nonni, si recò in Spagna, in questo caso con la compagnia di Lida Borelli, una grandissima attrice italiana, a Madrid e a Barcellona. Lì rappresentarono le commedie del loro repertorio, di questa compagnia, con notevolissimo successo. Lo testimoniano le interviste e gli articoli dei giornali d'epoca di Barcellona che parlavano di questa importante compagnia italiana che era arrivata lì in città. Cesare Giardini entra per la prima volta in contatto con la cultura catalana. Va a visitare addirittura la casa di Angel Guimerà, ce lo dice lui in un articolo, in compagnia di un intellettuale catalano, non sappiamo chi fosse, ma probabilmente era Alexandre Plana, forse. Cesare Giardini quindi forse nel 1912 comincia a interessarsi di cose catalane, ma non abbiamo testimonianze scritte poi su questo argomento perché, diciamo, la sua grande passione per la Catalogna nasce negli anni venti ed è in parte orientata, anzi per molti aspetti il suo, diciamo, mentore, è Joan Estelric. Joan Estelric col quale Giardini scambia tantissime lettere. Queste lettere che oggi si trovano alla Biblioteca di Catalogna sono la testimonianza del suo interesse per il mondo catalano, ma non solo con Joan Estelric, con Carles Riva, con Lopez Pico, con tantissimi intellettuali, tutti i maggiori. Certini ebbe rapporti epistolari. Alcuni di questi anche li conobbe, li conobbe a Milano, almeno quelli che si recaro in Italia perché, ripeto, probabilmente lui dal 1912 non tornò più a Barcellona. Ma come si esplicò la sua attività di catalanista? Beh, cominciò innanzitutto a tradurre. Compose una antologia dei poeti catalani, della poesia catalana, che pubblicò nel 1926 dal Baretti. Questo è il suo primo grande contributo. Per fare questa antologia scrisse a un sacco di poeti, e di questo rimane traccia ovviamente, facendosi suggerire poesie eccetera, cosa includere in questa antologia. E le pubblicò, come dicevo prima, con le edizioni del Baretti di Piero Gobetti, che era un grande intellettuale liberale, quindi anche i contatti che Giardini aveva in Italia erano tra, diciamo, gli intellettuali di prestigio. Ma poi tradusse anche la nazionalità catalana di Enric Pratt della Riva. Questo lo fece per la casa editrice per esso la quale, dal 1923, lavorava Alpes di Milano. Ci lavorò fino al 1931 ed è proprio in questo periodo, dal 23 al 31, che Giardini esplica maggiormente la sua attività di catalanista. Traduce poi anche Bertrana, scrisse decine e decine e decine di articoli davvero sulla cultura catalana di tutte le epoche, di tutti i periodi, ma anche di, diciamo, di pittura, di architettura, anche su Gaudì, scrisse Cesè Giardini. Quindi un diffusore della cultura catalana a tutto tondo. In Italia poi è conosciuto, più che per quest'opera di traduzione che è imponente, ripeto, non solo dal catalano ma anche da altre lingue, soprattutto del francese, per l'opera di divulgazione storica. Molti, forse tra gli ascoltatori più anziani italiani, potrebbero ricordare, per esempio, Il tragico destino di Don Carlos, che è un'opera di divulgazione storica pubblicata da Mondadori, di Cesè Giardini, oppure I pettegolezzi di Clio, sempre pubblicato da Mondadori o da Rizzoli, anche perché poi le case edifici variavano molto per Cesè Giardini, che era un libero battitore sostanzialmente. Insomma, un grande intellettuale e anche autore improprio, autore di commedie, di racconti e di saggi. Insomma, credo che Cesè Giardini sia una personalità che va conosciuta nell'arco della sua opera, dagli anni 20 al 1970, quando praticamente dimenticato e anche un po' forse, oserei dire, disprezzato dal mondo editoriale che lui con tanta cure e con tanto amore aveva frequentato, era stato un po' messo ai margini. E questo, diciamo, ricordo che io faccio, lo faccio non solo perché è stato quello che io penso, un diffusore della cultura catalana che va assolutamente rivalutato insieme a Giuseppe Ravegnani e, diciamo, al padre di entrambi, che è Alfredo Giannini, ma va anche ricordato per la sua opera instancabile di creatore di libri, di costruttore di libri. Certo, spesso erano libri un po' che lasciavano magari a desiderare, ma ha fatto molto per diffondere a livello popolare la letteratura e la cultura. E soprattutto ha fatto moltissimo per far conoscere la letteratura catalana.